e sta cargando a batbox ciao volpachiotti siamo di nuovo qua sulla volpecraft oggi ci metteremo a craftare il solar panel ora ci vuole il coil dust 3d fa di vetro e questo qua il generatore si fa la batteria porca vacca si fa raffine da iron la batteria come si fa la batteria poi ci voglio poi tanto facciamo così qua redstone rifinita iron e copper kablet allora ci abbiamo il copper dovremmo fare in teoria ho fatto tanto copa silva il voto non c'è niente ok andiamo qui non c'è un ciuffalo benissimo allora allora vediamo qua sotto se ci abbiamo l'acqua vado prendo un po che acqua allora secchi sono qua qua abbiamo l'acqua infinita ok uno e due lo abbassiamo va benissimo mi serve il carbone ok ok qui ho solo uno e coperolo ho solo uno e coperolo è possibile ecco parlo mi è sembrato sano ok questo qua lo prendiamo via ok questo qua lo prendiamo via e continua sta andando si ok te la via questo come con l'acqua benissimo la metà la metà la metàlie qua la metà la metà la metto qua la metto qua metà Aspettiamo un pochetto e ci sentiamo quando avrò fatto tutto ed eccoci qua ragazzi Allora ho messo a cuocere la gomma come vedete adesso bisogna fare in questo modo gomma gomma e 3 e abbiamo il nostro copper cobblet adesso ho messo l'altra gomma qua a cuocere Adesso Allora per fare questo ci vuole questo e questo RFD Island e due affari Allora Qua ce l'abbiamo facciamo a così RFD Island ce l'abbiamo 7 Mettiamo qua così ce la fa qua Allora abbiamo detto Ok a questo qua abbiamo detto così Per il resto ok benissimo Allora trova via 2 3 e 1 2 3 Eh abbiamo già fatto 1 RFD Iron e 2 Redstone E ci facciamo 1 e 2 Ok Per il momento va bene così Poi Poi Andiamo a fare il generatore che si fa con questa qua per il nostro compiacchio R battery Allora facciamo R R battery Allora Allora Fina Allora Coppola Cablet O Lattina O Tingot Lingotto di stagno Lattina Lattina E due Arretto Adesso Vediamo se c'è C'è l'olattina Allora Silver Ingot Qua non c'è Qua non c'è Qua non c'è Coppa Prendiamo qua Non sto facendo più Bene Ok Allora Lattin Tintin Cavalin Qua non c'è l'olattina Perché No No Ok E vediamo se qua c'è lattin Silver Ligla Glugli Glugla Chub Chap Tin Or Ok Tin Gravalor Oh Mettiamo a fare Statin Settiamo via Quanto è rimasto da Acqua Vabbè di su Ah 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 Allora A me servivano Due affari Che ce li ho Che sono qua Ah 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 Allora Per farse è qua Allora ci vuole Adesso E due Tin O tin Ingot Ingot Di stagno non abbiamo Ah Allora Ok No Poi va dietro Allora E un po' di più scherzo facciamo già due ecco potrei fare ancora un poco ok facciamo altri 18 da fare allora carbone bisogna ciorlo ce lo fa forse carbone no qua qua neanche a parlarne c'è una mia borsetta forse questa no questa no ok ok probabilità in caverna a ciò a piguare il carbone facciamo tre ok vediamo qua come stiamo abbiamo già fatto 10 bene adesso adesso prendiamolo qua ho detto allora qua ci va 2 e 2 dopo ci vuole due rezzo e non ce l'ho quella se ce l'ho ce l'ho di qua dovrei averlo non ce l'ho di qua non ce l'ho di qua non ce l'ho di qua devo farlo ok abbiamo sai veniamo qua allora facciamo due batterie ok poi ci facciamo la redstone due e due di questi e ci facciamo due batterie ok adesso facciamo altri facciamo altri adesso c'è sempre dei pane ok allora proprio questo c'è adesso vediamo il ferro il farro il farro, 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 farro farro.... allora qua non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho Questo è qua, mettiamo il ferro, e noi ci serve, ok, otto ferro, che ho sbagliato. Buongiorno, basta che ci faccia otto di quei, buongiorno, chiudiamo qua, buongiorno, facciamo così, l'ecotabamba, aspettiamo che venne il ferro, 4, allora vediamo la recisazione, siamo a 12 minuti, ancora un paio di minuti. Ok, allora vediamo un pochetto qua, ciao ai pacchiotti, allora siamo di nuovo qua, ho fatto off camera, 4 solar panel, adesso devo fare il bat box, bat, ok, devo fare questa qua, legno e una cosa, ok, nulla di che difficile, andiamo sempre a fatto due soli, schifo, ah, sono 12 qua, benissimo, sono 13, ok, adesso ci possiamo fare i cavetti, no, il cavetti ce l'ho già, stupido, allora, abbiamo detto, legno e tre batterie, le nuove batterie, allora che si fanno, in questo, ai ai ai, in questo modo, ta, 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 ok, c'è tutto, ta, 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 oh, questo va qua, una rezzola, questo lo sbaglio, no, no, non me lo sbaglio, allora, facciamo così, gramelliamo, questo qua, qua, dopo c'è, ah, due pietra rosse, ok, così, dopo c'è una qua, oh, questo va, qua, ci vuole altre due, ok, e dobbiamo fare tre batterie, ah, adesso, eh, ci vuole batterie, proprio le cariche, va, porca vacca, e le vogliamo se, vogliamo fare senza che caricarle, allora, legna, vediamo qua, questa qua, tanto, come andava la batbox, andava, legna, e te la fa, ok, allora, ho tre, questi qua, legna, è la batbox, ragazzi, ok, che adesso andiamo, la piazzicarla, ok, andiamo a piazzicarla qua sopra, e sta caricando la batbox, benissimo, adesso noi dovremo fare arrivare i cavi, fino al, fino al, fino al, e possiamo attirarvi a questi qua, e finalmente avemo la collente, ragazzi, dopo se c'è, se, se servirà, la farà, la, ok, questo qua, tanto, sta caricando, nota, facciamo così, saltiamo via, non ci serve, ok, adesso dobbiamo scavare qua, vabbè ragazzi, però, penso che, la vedremo, la prossima puntata, si, si, sono già 17 minuti, è già troppi, vabbè, alla prossima, ciao, i pacchiotti, chi siete? oh, che cazzo stowa?